Allora, questo è l'8 di Giovanni, siamo alla fine di luglio, oggi ne abbiamo 28. Vi faccio vedere che c'è un'ate che sta imbolinando la zucca. Questa è la zucca che sta imbolinando, si è aperta stamattina. L'ape che ha imbolinato la zucca, è piena di polline. È piena di polline. Grazie. L'ape che sta imbolinando la zucca, è imbolinato questa qua. Questa è la zucca. Grazie. 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 Grazie.